Fa un certo effetto rivedere queste immagini, torniamo indietro di 5 anni, 7 maggio 2016, stadio di Atletica Enzo Tenti, Arezzo. Questa è la finale dei 100 metri della fase regionale dei campionati italiani per società. Vince con il tempo di 10.32 Lamont Marcel Jacobs. Stessa grinta, stessa capacità di produrre velocità. Una grinta da campione un tempo, niente male se consideriamo l'età e la competizione. Sulla pista retina, l'atleta di Desenzano, con sangue americano, difendeva i colori delle fiamme gialle Virtus.lucca. In quella gara batte Luca Antonio Cassano, dell'Atletica Firenze, e Levi Mandi Roach, sempre della Virtus.lucca. Cinque anni dopo, il trionfo alle Olimpiadi di Tokyo, nella disciplina regina di tutto lo sport. Erminio Macario diceva che se gli spettacoli andavano bene ad Arezzo, il successo era garantito. Crediamo che la stessa cosa debba pensarla anche Marcel.